Totò nacque il 15 febbraio 1898 nel rione Sanità di Napoli, considerato il centro della Guapperia napoletana, in via Santa Maria Antesaecula, al terzo piano del civico 107. La sua nascita avvenne da una relazione clandestina tra Anna Clemente e Giuseppe De Curtis, il quale inizialmente non riconobbe il legame, così che all'anagrafe risultasse Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di Nemenne. Mesi più tardi, a causa delle piccole dimensioni dell'abitazione, si trasferirono a pochi metri di distanza, al secondo piano del civico 109 di via Santa Maria Antesaecula, oggi riconosciuta come abitazione storica di Totò. Crescendo in condizioni estremamente disagiate, De Curtis mostrò fin da bambino una forte vocazione artistica che gli impediva di dedicarsi allo studio, tanto che dalla quarta elementare fu retrocesso in terza. Questo non lo imbarazzò particolarmente, anzi, intratteneva spesso i suoi compagni di classe con piccole recite, smorfie e battute. Il bambino trascorreva le giornate osservando di nascosto le persone, soprattutto quelle più eccentriche, cercando di imitarne i movimenti e guadagnandosi il nomignolo di ospione. Questo curioso metodo di studio lo aiutò molto nella caratterizzazione di alcuni personaggi interpretati durante la sua carriera. Dopo aver terminato le elementari, De Curtis fu iscritto al Collegio Cimino. Qui, a causa di un incidente con uno dei precettori, che lo colpì involontariamente con un pugno, il suo viso subì una particolare conformazione del naso e del mento, un episodio che influenzò in parte la sua maschera. Nel collegio, tuttavia, De Curtis non fece progressi e decise di abbandonare prematuramente gli studi senza ottenere la licenza ginnasiale. Inizialmente, sua madre lo desiderava prete, quindi frequentò la parrocchia come chierichetto. Tuttavia, incoraggiato dai primi piccoli successi nelle recite in famiglia, e attratto dagli spettacoli di varietà, nel 1913, ancora giovanissimo, iniziò a frequentare i teatrini periferici, esibendosi con lo pseudonimo di Clermont in macchiette e imitazioni del repertorio di Gustavo De Marco, un interprete napoletano con grande mimica e movenze snodate, simili a quelle di un burattino. Durante questo periodo incontrò attori come Edoardo De Filippo, Peppino De Filippo e i musicisti Cesare Andrea Bixio e Armando Fragna. Durante la Prima Guerra Mondiale, De Curtis si arruolò volontario nel reggio esercito, venendo assegnato al 22. Reggimento Fanteria e distanza da prima a Pisa e poi a Pescia. Successivamente fu trasferito al CLI che si è triso lo battaglione di milizia territoriale destinato al fronte francese. Alla stazione di Alessandria, il comandante del suo battaglione lo armò di coltello e lo avvertì che avrebbe dovuto condividere i propri alloggiamenti in treno con un reparto di soldati marocchini con strane e temute abitudini sessuali. Totò, terrorizzato, fu colto da un malore. Alcune fonti indicano che simulò un attacco epilettico e venne ricoverato nell'ospedale militare locale, evitando così di partire per la Francia. Rimasto in osservazione per breve tempo, quando fu dimesso, venne inserito nell'88 reggimento Fanteria Friuli, distanza di Uo a Livorno, dove subì continui soprusi e umiliazioni da parte di un graduato da cui nacque il celebre motto dell'attore «Siamo uomini o caporali?». Dopo il servizio militare, Totò avrebbe desiderato diventare ufficiale di marina ma, non sopportando la disciplina, scappò di casa per continuare a esibirsi come macchiettista. Venne scritturato dall'impresario Edoardo D'Acerno e ottenne un primo successo alla Sala Napoli con una parodia della canzone di Ea Mario Vipera, intitolata Vicolo, che aveva sentito recitare al Teatro Orfeo dall'attore Nino Taranto, al quale chiese se poteva rubargliela. Negli anni venti, Giuseppe De Curtis riconobbe Totò come suo figlio e regolarizzò la situazione familiare sposando la madre di Totò. Riunita, la famiglia si trasferì a Roma, dove Totò, con la disapprovazione dei genitori, fu scritturato come straordinario nella compagnia dell'impresario Umberto Capece, un reparto composto da attori scadenti e negligenti. Totò si esibiva nella commedia dell'arte e guadagnò l'attenzione del pubblico impersonando l'antagonista di Pulcinella. Tuttavia Totò faceva molte rinunce per raggiungere il teatro. Non avendo i soldi neanche per un biglietto del tram, doveva camminare da Piazza Indipendenza a Piazza Risorgimento dall'altra parte della città. Nella stagione invernale chiese qualche moneta all'impresario Capece, che lo esonerò in modo brusco e inaspettato, sostituendolo all'istante con un altro straordinario. Questo episodio fu un duro colpo per Totò, che rimase sterrefatto e, dopo aver raccolto i suoi effetti, si allontanò a malincuore dal teatro. Durante quel breve periodo di disoccupazione, Totò cadde nello sconforto totale e trovava conforto solo quando riusciva a guadagnare qualche soldo, esibendosi in piccoli locali. Durante queste esperienze decise di concentrarsi sul genere teatrale che più gli si addiceva, il varietà. Aveva inizialmente progettato di presentarsi al capo comico napoletano Francesco De Marco, famoso per le sue esibizioni teatrali stravaganti, ma alla fine ebbe un ripensamento, probabilmente a causa dell'insicurezza. Totò iniziò a considerare l'idea di esibirsi da solo e decise di prendere come modello Gustavo De Marco, che riusciva a imitare senza sforzo davanti allo specchio. Una volta ritenutosi pronto, decise di tentare la fortuna al teatro Ambra Giovinelli, la massima rappresentazione dello spettacolo di varietà all'epoca, dove si erano esibiti artisti del calibro di Ettore Petrolini, Raffaele Viviani, Armando Gil e altri. Emotivamente teso, si presentò al titolare del teatro, Giuseppe Giovinelli, un uomo rude ma rispettato per il suo passato di scontri con la malavita locale. Nonostante le sue aspettative, il colloquio andò sorprendentemente bene e Totò venne preso. Fece il suo debutto con tre macchiette di De Marco, Il Bel Ciccillo, Vipera e Il Paraguay, che ebbero un buon successo di pubblico e entusiasmarono Giovinelli. Il comico firmò un contratto prolungato con il teatro, che lo utilizzò spesso in varie parti dello spettacolo, e organizzò persino un finto match tra Totò e il pugile Oddo Ferretti. Durante quel periodo, il successo ottenuto al teatro non compensava il tenore di vita dell'artista. La paga era scarsa e Totò non poteva permettersi abiti eleganti o accessori raffinati, ai quali teneva molto, né un taglio di capelli caratteristico, come le basette di Rodolfo Valentino. Fortunatamente Totò fece amicizia con un barbiere di nome Pasqualino, che aveva conoscenze nel mondo teatrale. Colpito dalla situazione economica precaria del giovane, Pasqualino riuscì a farlo scritturare da Salvatore Cataldi e Wolfango Cavaniglia, i proprietari del teatro Sala Umberto. Con il contratto al teatro Sala Umberto, Totò pote rinnovare il suo guardaroba teatrale, che fino ad allora consisteva in un unico abito consumato. Indossava una bombetta logora, un tight troppo grande, una camicia con colletto basso e altri indumenti umili. La sera del suo debutto al teatro, Totò diede il meglio di sé, dimostrando il suo talento in mimica facciale, piroette e macchiette di Gustavo De Marco. L'esperienza al teatro Sala Umberto segnò l'affermazione definitiva di Totò nello spettacolo di varietà. Tra il 1923 e il 1927, Totò si esibì nei principali caffè-concerto italiani, guadagnandosi una fama nazionale. Grazie ai migliori guadagni, poté finalmente permettersi abiti eleganti e curare il suo aspetto fisico, con i capelli pettinati all'indietro e le desiderate basette come quelle di Rodolfo Valentino. Questo fu un periodo positivo anche per la sua vita amorosa, con una serie di avventure, soprattutto con sciantose e ballerine, guadagnandosi la reputazione di vero sciupa femmine. Nel 1927 fu scritturato da Achille Maresca e successivamente entrò a far parte delle compagnie di Isa Bluet e Angela Ipavitz, con autori come Rip, Luigi Miaglia e Belami, Anacleto Francini. Nel 1929, durante una tournée alla Spezia con la compagnia di Maresca, fu contattato dal barone Vincenzo Scala per esibirsi come vedette in alcuni spettacoli al Teatro Nuovo di Napoli. La sua interpretazione in Messalina, in particolare, colpì il pubblico, che andò in visibilio per le sue smorfie e sberleffi improvvisati sul palco. Le soddisfazioni professionali di Totò non erano accompagnate da pari successi sentimentali. Nonostante le numerose avventure con le donne, si sentiva insoddisfatto fino a quando Liliana Castagnola non entrò nella sua vita. Totò rimase subito colpito da lei dopo averla vista in alcune fotografie in un abito di scena provocante. Liliana Castagnola, una sciantosa nota per essere stata oggetto di cronache mondane, era stata espulsa dalla Francia e aveva vissuto tragedie personali, tra cui la morte di un amante geloso che si era tolto la vita sparandole e lasciandole una cicatrice nel viso. Nonostante la cicatrice, Liliana adottò una pettinatura che le copriva le guance e la fronte. Nel dicembre 1929 Liliana arrivò a Napoli per lavorare al teatro nuovo. Totò, incuriosito dalla sua presenza, iniziò a corteggiarla inviando le mazzi di rose con biglietti d'ammirazione. Liliana rispose positivamente a questi gesti, dando inizio a una breve ma intensa storia d'amore. Nonostante fosse una donna fatale sul palcoscenico e nella vita reale, Liliana desiderava una relazione stabile e sicura con Totò. L'epilogo della relazione tra Totò e Liliana fu tragico. I problemi legati alla gelosia, i pettegolezzi e il senso di oppressione portarono alla rottura della loro relazione. Liliana sentendosi abbandonata. La sua morte lasciò Totò devastato. Nella lettera da Dio indirizzata a Totò, Liliana esprimeva il suo dolore e la sua amarezza per la situazione. Chiedeva perdono per le sue paure e incertezze, ringraziava Totò per i momenti felici che avevano condiviso e si congedava con un commosso addio. La morte di Liliana segnò profondamente Totò, che portò il peso del rimorso e della responsabilità per tutta la vita. La sua decisione di conservare il ricordo di Liliana e di battezzare sua figlia in suo onore testimoni all'impatto duraturo che ebbe su di lui. Durante gli anni 30, Totò continuò a consolidare la sua fama nel mondo dello spettacolo, diventando capo comico di una propria compagnia e proponendosi nell'avanspettacolo, un genere teatrale molto diffuso in Italia in quel periodo. I suoi spettacoli, spesso interpretati insieme alla sua prima spalla Guglielmo Inglese, poi sostituito da Edoardo Passarelli, lo portarono in tournée in tutta Italia, riscuotendo grandi successi. Nonostante i guadagni non fossero particolarmente alti, Totò si sentiva professionalmente affermato e trovava un grande piacere nell'esprimere la sua comicità surreale e grottesca, con mimiche esagerate e giochi linguistici. Durante le sue performance interpretò una vasta gamma di personaggi, tra cui Don Quixote e persino una subrette travestita. La sua esperienza nel teatro dell'avanspettacolo, dove spesso si recitava senza un copione ben definito, gli permise di sviluppare la sua creatività e di affinare la sua abilità nell'improvvisazione. Molte delle macchiette dei personaggi che interpretò in quel periodo furono successivamente riproposti nel suo repertorio cinematografico. Totò trasformò la sua esperienza di povertà vissuta durante la giovinezza in una fonte di ispirazione per la sua comicità. Era convinto che la miseria fosse il copione della vera comicità e che non si potesse essere un vero attore comico senza aver combattuto le difficoltà della vita. Questo approccio contribuì a plasmare la sua originale personalità recitativa, rendendolo uno dei protagonisti principali della stagione dell'avanspettacolo. Durante gli anni 30, Totò iniziò a essere considerato per il cinema da diverse personalità importanti del settore come Umberto Barbaro e Cesare Zavattini. Tuttavia, il suo vero esordio sul grande schermo avvenne nel 1937 con il film Fermo con le mani, prodotto da Gustavo Lombardo per la Titanus. Nonostante fosse stato notato casualmente mentre pranzava in un ristorante a Roma, il film non ottenne grande successo e non riuscì a proporre un'alternativa convincente al personaggio di Charlotte. Nel 1938, Totò subì un grave infortunio, un distacco di retina traumatico che lo portò a perdere la vista dell'occhio sinistro. Nonostante questo contrattempo, continuò a lavorare nel teatro d'avanspettacolo per un breve periodo prima di affrontare una crisi nel suo matrimonio con Diana Rogliani, causata dalla sua ossessiva gelosia e dal desiderio di libertà. Totò e Diana decisero di separarsi ma poiché il divorzio non era possibile in Italia all'epoca, dovettero chiedere lo scioglimento del matrimonio in Ungheria per far sì che fosse riconosciuto anche in patria. Nonostante la separazione legale, i due continuarono a vivere insieme insieme alla figlia Liliana e ai genitori di Totò. Dopo il modesto successo di Fermo con le mani, Totò continuò a lavorare nel cinema interpretando film come Animali pazzi nel 1939 e San Giovanni decollato nel 1940, quest'ultimo elogiato dalla critica per la sua recitazione e la sua versatilità. In seguito, nel 1941, interpretò L'allegro fantasma diretto da Amleto Palermi in cui ricoprì addirittura tre ruoli diversi. questo film segnò temporaneamente la fine della sua carriera cinematografica poiché tornò a dedicarsi al teatro. Nel periodo dei suoi primi esperimenti cinematografici, Totò non riuscì a replicare il successo che aveva ottenuto sul palcoscenico. Quando tornò al teatro alla fine del 1940, l'avanspettacolo era ormai tramontato, sostituito dalla rivista, un genere teatrale nato a Parigi e caratterizzato da uno spirito satirico, seppur limitato dalla censura fascista, che vigeva in Italia dopo l'ingresso del paese nella Seconda Guerra Mondiale. Il debutto di Totò nella rivista avvenne al teatro Quattro Fontane di Roma con Mario Castellani e Anna Magnani come prima donna con la rivista Quando meno te l'aspetti di Michele Galdieri. Questa collaborazione con Galdieri durò nove anni, durante i quali Totò partecipò a numerose riviste teatrali come Volumineide, Orlando Curioso, Che ti sei messo in testa? e Con un palmo di naso. Durante la guerra, il teatro incontrò numerose difficoltà, inclusi i bombardamenti che interrompevano spesso gli spettacoli. Inoltre, Totò fu coinvolto in un episodio di tensione politica quando la sua rivista Che ti sei messo in testa? suscitò problemi con le autorità. Totò e la sua famiglia si nascosero per un breve periodo per evitare l'arresto, fino alla liberazione di Roma nel giugno 1944. Nonostante le difficoltà, Totò continuò a recitare con successo, affrontando anche temi politici delicati. Durante la sua carriera teatrale, Totò fu conosciuto per la sua satira politica inclusa la sua rappresentazione ironica di figure come Mussolini e Hitler, la sua capacità di far ridere il pubblico di fronte a potenti dittatori gli causò alcuni problemi, ma dimostrò anche il suo coraggio nel contestare il regime fascista attraverso l'arte. Dopo una serie di esibizioni di successo, Totò interruppe la sua collaborazione con Anna Magnani, che in seguito divenne celebre per il suo ruolo nel film Roma Città Aperta. Tuttavia, Totò continuò a perseguire la sua strada nel cinema e nel teatro, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi comici italiani di tutti i tempi. Durante gli anni 1945 e successivi, Totò continuò a alternare il teatro e il cinema, dedicandosi anche alla creazione di canzoni e poesie, oltre che alla lettura, con una predilezione per Luigi Pirandello. Tra i suoi film di questo periodo, Il Ratto delle Sabine, diretto da Mario Bonnard, ricevette alcune critiche negative, ma Totò continuò a lavorare con successo nel cinema, partecipando a pellicole come I due Orfanelli, scritto da Steno e Agenore Incroci, e diretto da Mario Mattoli, e altri tre film tra il 1947 e il 1949, FIFA e Arena, Totò al Giro d'Italia e I pompieri di Vigiu. Parallellamente, Totò continuò a distinguersi nel teatro, con la collaborazione di Michele Galdieri nella rivista C'era una volta il mondo, che ottenne grande successo sia in Italia che all'estero, con spettacoli anche a Zurigo. Durante questo periodo, Totò affrontò anche momenti difficili, come la perdita dei genitori e episodi di tensione politica legati alle sue rappresentazioni teatrali. Tuttavia, nonostante le avversità, Totò mantenne il suo impegno artistico, continuando a essere acclamato sia sul palcoscenico che sul grande schermo. Nel cinema, Totò si distinse per la sua capacità di improvvisazione, spesso arricchendo le scene con gag e battute concepite sul momento. Questo stile spontaneo e creativo contribuì a rendere le sue interpretazioni uniche e molto amate dal pubblico. Anche se Totò poteva sembrare svogliato durante le prove, era durante le riprese che dava il meglio di sé, offrendo performance brillanti e memorabili. Le differenze tra il teatro e il cinema rappresentarono inizialmente una sfida per Totò. Abituato al ritmo e alla comunicazione diretta con il pubblico del teatro si trovò a dover affrontare le sfide del cinema dove la concentrazione e la precisione erano cruciali. Inizialmente tendeva a perdere la concentrazione dopo i primi ciac, richiedendo l'intervento della troupe per essere colto al volo e recitare al meglio e inoltre Totò trovava difficile adattarsi al fatto di non poter comunicare direttamente con il pubblico come faceva sul palcoscenico. Solitamente i registi e i membri della troupe lo spronavano con un applauso dopo lo stop per dargli maggiore carica ed entusiasmo. Gli orari erano un altro aspetto problematico per Totò. Abituato agli orari teatrali non si alzava mai prima di mezzogiorno e preferiva girare nel cosiddetto orario francese dalle 13 alle 21 questo ritmo e i lunghi tempi di attesa nel cinema lo stancavano complicando le riprese. Inoltre Totò era molto superstizioso e non lavorava mai di martedì e di venerdì 13 o 17 creando ulteriori complicazioni per la pianificazione delle riprese. Complicazioni particolari si verificarono durante le riprese di Totò al Giro d'Italia dove la presenza di ciclisti famosi e l'arrivo tardivo di Totò causavano difficoltà aggiuntive. Totò affrontò diverse sfide sia sul set che sul palcoscenico durante questo periodo. Dopo aver superato il dolore della perdita del figlio che lo aveva profondamente scosso tornò a recitare nel 1956 interpretando una serie di film con Camillo Mastrocinque tra cui Totò, Peppino e la malafemmina e la banda degli onesti. Nonostante il successo al cinema sentì la tentazione di tornare al teatro e recitò nella rivista A prescindere esibendosi in tutta Italia. Nel 1957 a Milano Totò fu colpito da una broncopolmonite virale. Nonostante i consigli dei medici di riposare tornò presto sul palco causandosi uno svenimento. Anche se i medici gli prescrissero un riposo di due settimane Totò continuò a recitare mostrando i primi segni di problemi alla vista durante le esibizioni a Biella, Bergamo e Sanremo. La situazione peggiorò il 3 maggio mentre recitava a Palermo. Improvvisamente perse la vista. Nonostante la disperazione e la totale cecità si sforzò di continuare a recitare per non deludere il pubblico. Anche se gli fu diagnosticata una corioretinite emorragica all'occhio destro l'impresario della compagnia Remigio Paone sembrava non credere alla gravità della situazione e continuava a richiedergli di recitare. Totò dovette affrontare la difficile realtà della cecità e nonostante alcuni lievi miglioramenti e la riassorbimento dell'emorragia non riuscì mai a recuperare completamente la vista. Questo lo portò a dover abbandonare definitivamente il teatro sebbene non ammettesse mai che fosse a causa dei suoi problemi di salute. Continuò comunque a dedicarsi al cinema anche se in modo più limitato. Nel 1957 interpretò solo un film Totò Vittorio e la Dottoressa di Mastro 5 ma dimostrò che le sue capacità recitative non si erano affievolite nonostante la malattia. Tuttavia il problema del doppiaggio rappresentava una sfida non potendo vedere le scene per sincronizzare le battute con il movimento labiale veniva doppiato da Carlo Croccolo in alcune occasioni. A causa di problemi economici Totò fu costretto a vendere alcune delle sue proprietà e trascorse un breve periodo a Lugano valutando anche la possibilità di trasferirsi definitivamente per motivi fiscali. Alla fine però tornò a Roma e visse in un appartamento in affitto a Viale dei Parioli insieme a Franca Faldini suo cugino Edoardo Clemente e l'autista Carlo Caffiero che lo accompagnava abitualmente sul set. Totò nonostante il suo scarso interesse per la televisione accettò nel 1958 di partecipare come ospite d'onore al programma Il musichiere condotto da Mario Riva con il quale aveva lavorato in passato. Durante la trasmissione fece un commento politico scherzoso che gli causò l'allontanamento dal piccolo schermo fino al 1965 quando partecipò a Studio 1 duettando con Mina. Dopo questo episodio tornò a concentrarsi sul cinema nel 1958 ricitò con Fernandelli in La legge è legge e prese parte al celebre film I soliti ignoti di Mario Monicelli dove interpretò lo scassinatore Dante Cruciani. In quel periodo ricevette riconoscimenti importanti per la sua carriera nel cinema italiano come il microfono d'argento e una targa d'oro dall'anica. Nel 1959 la sua salute peggiorò e dovette prendersi alcuni mesi di riposo interrompendo temporaneamente il lavoro sul film la cambiale. Accettò di presiedere la giuria al festival di Sanremo 1959 ma abbandonò presto l'incarico a causa di un disaccordo con gli altri membri della commissione. Anche se gli furono offerte opportunità di lavoro negli Stati Uniti Totò preferì rimanere in Italia e continuare la sua carriera nel cinema in modo più tranquillo. Nel 1961 gli fu assegnata la grolla d'oro alla carriera ma non poté partecipare alla premiazione a causa dei suoi impegni e della salute precaria. Nonostante la sua malattia e il fumo eccessivo Totò continuava a lavorare intensamente nel cinema accettando qualsiasi copione per timore di perdere il lavoro e l'affetto del pubblico. Continuò a interpretare numerosi film collaborando con registi come Lucio Fulci Steno Camillo Mastrocinque Sergio Corbucci e Mario Monicelli. Anche se era quasi completamente cieco e doveva indossare occhiali scuri pesanti sul set riusciva a muoversi con disinvoltura e a recitare con sicurezza appena sentiva il segnale del Chuck. Negli anni 60 Totò interpretò una vasta gamma di ruoli dalle commedie alle parodie. Alcuni dei suoi film più noti di questo periodo includono Totò Truffa 62 di Camillo Mastrocinque gli onorevoli e i due marescialli di Sergio Corbucci Risate di gioia di Mario Monicelli e numerose parodie come Totò contro Maciste Totò e Cleopatra e Totò d'Arabia. In particolare Risate di gioia è degno di nota perché segnò l'unica volta in cui Totò recitò sul set insieme ad Anna Magnani sua amica storica di teatro. La fama di Totò tra il pubblico veniva spesso sfruttata dai produttori cinematografici come una sorta di veicolo pubblicitario per lanciare nuovi talenti come cantanti e attori. Artisti come Johnny Dorelli Fred Buscaglione Rita Pavone Adriano Celentano e l'attore bambino Pablito Calvo furono associati a Totò in film come Totò e Marcellino. Totò esplorò anche il filone Notturno Sexy recitando insieme a Erminio Macario in film come Totò di Notte in Uno e Totò Sexy che sono stati considerati tra i film peggiori della sua carriera. Nel gennaio del 1964 venne annunciato l'uscita di Il Comandante promosso come il suo centesimo film anche se in realtà era il suo ottantaseiesimo. Questo film diretto da Paolo Heusch e scritto da Rodolfo Sonego fu il primo interamente drammatico per Totò. Nonostante le aspettative il film non ottenne il successo sperato nonostante Totò fosse stato festeggiato e riconosciuto con premi come La Sirena d'Oro. In seguito Totò pubblicò il famoso libro di poesie a livella presso l'editore Fausto Fiorentino di Napoli originariamente intitolato Il 2 novembre. Il libro gli valse anche un premio. Tra il 1964 e il 1965 recitò anche in film collettivi come Le Belle Famiglie e Gli Amanti Latini. La scomparsa di Totò fu segnata da profonda tristezza e dal rimpianto di un talento unico che si era spento. Alcuni giorni prima della sua morte esprimeva un senso di fallimento e di non aver sfruttato appieno le opportunità offerte dal palcoscenico la sua vera passione. Si sentiva inadeguato rispetto al suo potenziale e al suo amore per il teatro. Queste parole testimoniano la sua autovalutazione critica e il peso dei rimpianti che lo tormentavano. Totò morì nella sua casa di Roma il 15 aprile 1967 stroncato da un infarto dopo una lunga agonia. Anche durante le sue ultime ore mostrò una profonda sofferenza e chiese ai familiari e al medico curante di lasciarlo andare. Le sue ultime parole riflettono la sua fede religiosa e il suo affetto per coloro che lo circondavano. la sua morte segnò la perdita di uno dei più grandi talenti della commedia italiana lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo che sarebbe stato difficile colmare. Nonostante Totò avesse sempre manifestato il desiderio di una cerimonia funebre e semplice alla fine se ne svolsero ben tre. Il primo ebbe luogo nella capitale dove era deceduto. La sua salma fu vegliata per due giorni da eminenti figure del mondo dello spettacolo e non solo provenienti da ogni parte d'Italia per commemorarlo. Più di duemila persone si raccolsero nella basilica di Sant'Eugenio per partecipare alla cerimonia funebre tra cui Alberto Sordi Elsa Martinelli Olga Villi Luigi Zampa e Luciano Salce insieme a registi e critici che in passato lo avevano trascurato o criticato sulla bara furono posizionati la sua iconica bombetta e un garofano rosso. La cerimonia a causa delle complicazioni legate al suo legame con Franca Faldini si limitò a una benedizione semplice mentre lei fu costretta a lasciare la casa mentre il prete ufficiava. Il secondo funerale si tenne a Napoli la sua città natale il 17 aprile. Il feretro partì verso la città scortato da una carovana di circa 30 vetture. Napoli interruppe ogni attività dalle 16 da 0 alle 18 e 30 manifestando il suo cordoglio con manifesti sui muri serrande abbassate e portoni socchiusi. Tra coloro che attendevano il feretro c'erano i fratelli Nino e Carlo Taranto Ugo D'Alessio Luisa Conte e Dolore Spalumbo insieme ad altri amici e colleghi dello spettacolo. A causa della grande affluenza il furgone impiegò due ore per raggiungere la basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore dove si svolsero i funerali davanti a circa 250 mila persone tra bandiere stendardi e corone dopo il rito funebre le autorità furono costrette a far uscire la salma da una porta secondaria della basilica poiché all'interno si verificò un panico generale con persone che svenivano la confusione portò a quattro feriti tra cui due donne e due agenti di polizia la salma di totò fu scortata da motociclisti della polizia al cimitero di Santa Maria del Pianto Franca Faldini la figlia Liliana con il marito Edo Clemente e Mario Castellani attendevano al cimitero decidendo di non assistere alla funzione religiosa a causa della folla Totò fu sepolto nella tomba di famiglia accanto ai genitori al piccolo Massenzio e a Liliana Castagnola successivamente un capoguappo del rione sanità organizzò un terzo funerale il 22 maggio pochi giorni dopo il trentesimo giorno dalla morte di Totò che vide la partecipazione di un grande nonostante la bara fosse ovviamente vuota Edoardo De Filippo tramite un articolo sentito commemorò Totò dalle pagine del quotidiano Paese Sera nel giorno della sua scomparsa